Salve a tutti e benvenuti in questo videocorso, oppure chiamiamolo video tutorial, sulla modellazione 3D di membrane di osteorigenerazione paziente specifiche. Io sono Luca Borro, sono ingegnere biomedico, sono formatore autorizzato per l'Italia del software 3D Blue Sky Plan e sono anche un 3D specialist su Mesh Mixer e su tutto ciò che riguarda l'utilizzo di software 3D gratuiti o low cost per applicazioni nel settore odontogliatria. Questo videocorso nasce da una serie di richieste che ci sono arrivate attraverso la piattaforma App3D in cui appunto ci si chiedeva come poter realizzare queste membrane di osteorigenerazione a partire da un modello osseo in cui si è verificato un eccessivo riassorbimento osseo. Oggi vedremo proprio partendo dalle immagini radiologiche, dalle immagini TAC, come arrivare a realizzare questo oggetto che poi può essere stampato in 3D, in vari biopolimeri oppure può essere fresato ancora meglio. Quindi partiamo subito con questo videocorso che spero vi piaccia. Una premessa importante è un videocorso che io ho pensato per chi ha già dimestichezza con Blue Sky Plan, quindi non è un videocorso base, quindi chi lo fa deve conoscere già Blue Sky Plan, quantomeno le basi. Chi invece volesse partire proprio da zero, ricordo che ci sono anche i nostri corsi, che sono corsi sia in presenza, il 25 giugno a Roma terremo un corso in presenza proprio sull'uso di Blue Sky Plan per chirurgia guidata, il 16 luglio ci sarà sempre a Roma un altro corso sull'ortodossia digitale con Blue Sky Plan e poi ci sono anche dei corsi, delle videoregistrazioni di corsi che già abbiamo tenuto, ad esempio sulla realizzazione di kit chirurgici scomponibili, quindi per la chirurgia guidata scomponibile che sono veramente molto interessanti. Qui trovate tutti i riferimenti su questa pagina, mi metto un po' di riferimenti per chi non è ancora avvezzo a questa tecnologia e volesse quindi fare un passaggio preliminare. Per chi invece già usa Blue Sky Plan, è già esperto e sta già super pronto, allora non ci saranno problemi, potrete seguire questo videocorso da questo momento in poi. Bene, allora cominciamo subito il corso. Per iniziare a progettare la membrana di osteorigenerazione customizzata sull'anatomia di questo paziente è necessario ottenere un modello tridimensionale della parte anatomica interessata di sicuro molto più dettagliato e preciso di questo. Questo modello che vedete è stato ottenuto semplicemente attraverso il movimento di questo slider che prende più o meno densità ossea e quindi ricrea un modello più o meno fedele a quello reale. Il problema è che questa TAC che voi vedete in queste immagini è una TAC non di qualità altissima, dunque è necessario sviluppare una ricostruzione tridimensionale un pochino più dettagliata. Blue Sky Plan come sapete mette a disposizione due tool per ottenere un modello 3D fedele all'anatomia reale. Il primo tool è appunto questo, si chiama thresholding, il tool che permette di comprendere più o meno densità ossea. L'altro tool invece è quello che si trova in pannelli segmentazione. È chiaro che il primo tool, cioè il thresholding è molto veloce, semplicemente basta portare a destra o a sinistra questo cursore per vedere più o meno osso. Il secondo tool, però il primo è meno preciso. Il secondo tool invece è molto più lento, nel senso che serve più tempo, ma i risultati sono assolutamente più precisi e più definiti. In questo caso, considerando che noi dobbiamo andare a realizzare una membrana di osso e rigenerazione in questa parte, sarà necessario utilizzare il secondo tool. Prima di partire con la progettazione della membrana di osso e rigenerazione bisogna fare una premessa. Allora, questa TAC è una TAC demo, un'ATAC dimostrativa, non è una TAC adeguata per creare una membrana di osso e rigenerazione perché in questo punto non c'è un punto di riassorbimento osseo importante. Non avendo a disposizione purtroppo una TAC ad hoc per questo tutorial, in questo momento, noi modificheremo un po' l'anatomia della mandibola per creare noi il difetto. Quindi faremo un'estrazione di questo molare e andremo a modificare l'anatomia della mandibola in questo punto per creare noi un riassorbimento osseo da trattare. Chiaramente poi ognuno di voi, quando si troverà di fronte al proprio caso clinico, avrà già la sua TAC pronta, ma il risultato è assolutamente lo stesso. Io faccio questo per questione di semplicità e per non dover cercare un TAC ad hoc con un difetto, perché mi ci sarebbe voluto un po' troppo tempo, non essendo io un clinico. E quindi, diciamo, utilizzo queste immagini TAC andando a modificare io manualmente il modello per ricreare il difetto. Ok, la segmentazione dell'osso è abbastanza semplice, comunque l'ha trovata nel pannello di segmentazione. Io l'ho già fatta per questione di tempo, quindi non è oggetto di questo video, però è una cosa abbastanza semplice. L'unica cosa è che ci vogliono 15-20 minuti per segmentare bene tutta la mandibola del paziente. Il risultato è praticamente questo che vedete adesso. Grazie. Ok, il risultato che abbiamo ottenuto è il seguente, che è decisamente migliore rispetto a quello che avevamo ottenuto prima con una segmentazione semplicemente con il cosiddetto thresholding. Adesso, come dicevo, come accennavo all'inizio, io ho bisogno di un modello 3D diciamo che si presti al nostro obiettivo, cioè alla realizzazione di una membrana di osteoigenerazione. Questo non lo è di fatto. Quindi cosa faccio? Andrò a togliere questo dente e a crearmi, diciamo, il difetto osseo. Quindi il difetto osseo, in questo caso, per semplicità, per questioni didattiche, me lo creerò automaticamente. Ovviamente non lo faccio vedere perché a voi non interessa, diciamo, ricreare un difetto osseo, ma piuttosto mi interessa risolverlo. Quindi io adesso importerò qui in MeshMixer il modello di questa mandibola, però sul quale ho creato volutamente un difetto osseo. Ok, ho importato in BlueSkyPlan il modello con il difetto osseo che ho volutamente marcato e ricreato. Infatti se noi andiamo nella scheda superfici e attiviamo il precedente modello possiamo vedere l'identità del difetto che ho creato. A noi adesso il modello bianco francamente non ci interessa più perché è l'originale, diciamo, e ci interessa soltanto la condizione patologica. Vi ripeto, tutti i passaggi che ho fatto fin qui voi non dovete farli perché voi avrete già un modello clinicamente adatto a questo lavoro. La cosa interessante è che se io applico la voce suggerimento in corrispondenza della superficie celeste, quindi attivo questa voce, posso andare a vedere la proiezione di questa superficie sulla TAC e se lo faccio anche per il modello originale posso andare a vedere qui nelle sezioni trasversali l'entità del riassorbimento osseo che ho volutamente creato. Eccola qua, si vede uno scarto importante. Quindi chiudiamo un attimo il suggerimento sul modello osseo originale che non ci interessa più e lavoriamo sul modello, chiaramente sul modello osseo ricreato, rigenerato da me. La prima cosa che andiamo a fare è sicuramente una ceratura diagnostica virtuale, quindi partiamo dalla posizione ideale dei due nuovi elementi che andremo a mettere qui e da lì poi andremo ad inserire gli impianti. Ok, l'inserimento dei modelli dentali si può fare semplicemente attraverso questa funzione, quindi aggiungi dente, qui si vanno a scegliere gli elementi dentali da aggiungere, ok, si clicca su ok, si vanno a posizionare gli elementi e a ridimensionarli con queste maniglie. Io adesso ho fatto un posizionamento del tutto così indicativo, senza rilevanza clinica, così come ho posizionato gli impianti in maniera molto generica, senza nessuna correttezza dal punto di vista clinico. Gli impianti chiaramente si possono inserire andandolo a lavorare nella modalità avanzato, quindi non in modifica modello, ma nella modalità avanzato, e si possono inserire gli impianti semplicemente cliccando con il tasto destro sul dente e cliccando poi su all'inno nuovo impianto. Su questa parte qui non mi dilungo perché appartiene al corso di chirurgia guidata, ma soprattutto perché chi fa questo tipo di applicazione probabilmente già sta a usare Blue Sky Plan. Quindi una volta posizionati gli impianti procediamo in questo modo. È sempre buona norma quando si lavora sulla mandibola identificare il decorso dei canali alveolari. Molto semplice da fare, in questo caso lo facciamo fare automaticamente, nel caso in cui ci fossero problemi poi il software si possono identificare anche questi canali manualmente, però in questa fase gli rileva automaticamente i nervi per vedere appunto i canali mandibolari e portarci in un regime di sicurezza nell'inserimento degli impianti. Ok, ecco qua i due canali mandibolari ricreati, quindi siamo a distanza ovviamente di sicurezza e possiamo vedere qui, togliando un attimo la scansione intraorale, possiamo vedere qui la perdita addosso e quindi quello che dobbiamo effettivamente andare a rigenerare. Dunque, prima di passare il mesh mixer dove andremo effettivamente a disegnare la membrana di osteorigenerazione bisogna fare un passaggio preliminare che è volto a eliminare i sottosquadri sul modello azzurro, perché la membrana deve poter calzare ovviamente e inserirsi precisamente sull'osso senza impedimenti, ma soprattutto deve potersi poi sfilare in maniera molto molto delicata senza traumi per l'osso rigenerato. Per fare questo utilizziamo un modulo di Blue Sky Plan che diciamo sfruttiamo al nostro vantaggio, anche se non nasce diciamo per questo scopo. Allora, si va praticamente su Pannelli, Realizzazione Guida e si va a disegnare una guida chirurgica esattamente in quest'area. Vedi, io l'ho già disegnata, però poi voi potete disegnarla tranquillamente. La cosa importante è cliccare su Crea Modello di Undercut come sottoprodotto, quindi questo deve essere attivato. Una volta che abbiamo queste funzioni attivate possiamo cliccare su Crea Guida Chirurgica, qui clicchiamo su Salvo e il software creerà la guida chirurgica. Chiaramente a noi non interessa la guida chirurgica, quindi la elimineremo, pertanto non ci sarà nessun pagamento nell'esportazione di quello che esporteremo successivamente, ma ci interessa avere questo modello celeste con però i sottosquadri eliminati. Chiaramente qui dove c'è scritto massimo sottosquadro consentito lo portiamo a zero. Ok, quello che otteniamo è esattamente questo, come vedete, quindi una piccola guida chirurgica che si trova poi anche in superfici, è questa qui rossa, che andiamo ad eliminare, e il modello di sottosquadro, che differisce dal modello diciamo celeste perché appunto vedete i sottosquadri sono eliminati. In realtà qui non ci sono sottosquadri, ce n'è qualcuno qui dietro, non interessano tantissimo, però è sempre meglio fare questo passaggio perché nel mio modello non ci sono particolari sottosquadri in una zona di interesse, ma nel vostro magari potrebbero esserci. Ok, quindi chiamiamo questo modello di sottosquadro, lo lasciamo così e che cosa facciamo? Esportiamo, diciamo, a parte i denti e i nervi, esportiamo gli impianti e esportiamo il modello di sottosquadro, diciamo, finito. Ok, in realtà possiamo volendo esportare anche i denti, non è che c'è un pagamento, non si paga nulla perché la dima chirurgica che è l'unica entità, diciamo, digitale che viene pagata quando si esporta l'abbiamo già eliminata, quindi non pagheremo niente. Allora quindi facciamo file, esporta dati, oh, ho sbagliato, scusate, file, esporta dati e qui andiamo ad esportare, quindi il modello di sottosquadro, bah, esportiamo anche il modello principale, esportiamo i denti, esportiamo gli impianti e a posto, quindi dovremmo esserci, quindi clicchiamo su esporta, costo sempre zero. Ok, questo è il Mesh Mixer, programmino gratuito, fantastico, super consigliato da scaricare e da Google ovviamente, basta scrivere Autodesk Mesh Mixer e andiamo adesso ad importare i file che abbiamo appena esportato all'interno di Mesh Mixer, quindi clicchiamo su import e andiamo a prendere file esportati, io li ho salvati qui, li selezioniamo tutti con il mouse e clicchiamo su apri e lui li carica tutti all'interno. Adesso dobbiamo fare un po' di ordine, diciamo, nella finestra per evitare che i file vadano praticamente ad accumularsi. ok, quindi vedete sono stati esportati i denti, quindi questo è il primo molare, lo rinominiamo per semplicità, questo è il secondo molare, poi abbiamo il modello originale, quindi il difetto osseo ricreato, quindi chiamo osso originale e poi abbiamo anche il modello di sottosquadro, questo qui, quindi intanto questi qui togliamoli un attimo e poi abbiamo, vabbè, i nervi mandibolari non ci interessano, quindi li posso cancellare e gli impianti invece ci interessano perché se lo mettiamo qui sul modello di sottosquadro ci fa capire dove dobbiamo andare, di quanto osso abbiamo bisogno e quindi che tipo di rigenerazione dobbiamo fare. una cosa importante, siccome stiamo lavorando vicino al forame mentoniero forse è il caso di tenere i nervi, io adesso vi ho appena cancellati ma provo a reimportarli, quindi nervo 1, nervo 2, vabbè, siamo lontani comunque dal forame, però per semplicità magari soprattutto il nervo di sinistra è meglio tenerlo. Ok, a questo punto andiamo a cliccare su, innanzitutto, buona norma quando si lavora in mesh mixer e duplicare sempre quello su cui si lavora, quindi se stiamo lavorando sul modello di sottosquadro, beh, facciamone una copia, ok, perché è sempre utile avere una copia, quindi l'originale lo chiudiamo e lavoriamo sul sottosquadro. Andiamo adesso con il comando select, con una dimensione del pennello adeguata, a creare un contorno che sarebbe appunto il contorno della nostra membrana di osteorigenerazione. Ok, io adesso vado, faccio un contorno, diciamo così, esemplificativo, niente di clinicamente rilevante, è giusto per farvi vedere i passaggi tecnici, quindi facciamo un contorno di questo tipo, a questo punto digito la lettera B per ottimizzare i bordi, quindi per lisciare i bordi, ok, perfetto, e clicco su ESC, quindi annullo, diciamo così, la selezione. A questo punto vado a cliccare due volte sulla parte centrale della mia selezione, ok, e clicco sulla lettera Y, cioè digito la lettera Y, la lettera Y praticamente mi separa la mia selezione centrale dal bordo verde. Ok, adesso dobbiamo andare a modellare questa selezione centrale come se dovessimo proprio alzare l'osso, ok, quindi dobbiamo fare un rimodellamento osseo così virtuale. Ok, per fare questo rimodellamento osseo virtuale ci sono diverse modalità, adesso io proverò attraverso i comandi di scultura, quindi sculpt, qui ci sono una serie di pennelli non li vedremo tutti, iniziamo con il comando inflate, ok, aumentando un po' le dimensioni del pennello inizio pian piano ad alzare questa parte centrale. Adesso anche qui il medico clinico sa perfettamente come fare questa operazione, diciamo clinicamente corretta, a me non interessa dal punto di vista clinico farvi vedere come si fa, mi interessa farvelo vedere dal punto di vista tecnico. Ok, una volta raggiunta, diciamo così, l'altezza desiderata possiamo utilizzare i comandi di smoothing, come RoboSmooth, per smussare questo quanto abbiamo appena creato. Ok, quindi andiamo qui e andiamo a smussare per bene tutto, aumentando anche un po' la forza di questo smusso, di questo pennello di smussatura, in questo modo. possiamo ancora qui, pareggiamo, possiamo metterci anche in una vista laterale per vedere diciamo il profilo, ok, poi ci possiamo mettere in un'altra vista, nelle configurazioni, insieme nelle viste possibili, le utilizziamo, ci mettiamo nelle viste possibili per poter ottimizzare la forma e poi passiamo sempre questi pennelli di smoothing per eliminare gobbe e artifici vari. Se volete potete attivare la visualizzazione wireframe, che vi permette di vedere meglio anche la superficie che state ottimizzando. Ok, togliamo wireframe. Ok, possiamo vedere applicando a questa membrana, diciamo a questa, questo osso rigenerato, il materiale trasparente, possiamo vedere anche la loro, la sua, diciamo, posizione, diciamo, il livello rispetto agli impianti. Prendiamo adesso un materiale diverso, magari quest'osso giusto per distinguerlo, e a questo punto attiviamo di nuovo la visualizzazione wireframe, perché dobbiamo andare a selezionare, facciamolo qui che si vede meglio, dobbiamo andare a selezionare il bordo dell'osso rigenerato e del bordino verde che abbiamo creato prima. Quindi comando select, dimensione del pennello molto piccola, ok, facciamo due clic su uno dei triangoli che sono adiacenti al bordo della parte superiore, anzi prima di fare questo, scusate, dobbiamo fare un altro passaggio. Dobbiamo selezionare tutti e due questi modelli, quindi il modello di osso rigenerato con il modello di sottosquadro e fare combina, ok. Poi ci avviciniamo e con il comando select facciamo una selezione di un triangolo adecente al bordo del modello superiore e un'altra selezione di un altro triangolo adecente al bordo del modello inferiore. A questo punto digitiamo la lettera B per smussare i bordi e clicchiamo su accetta, e poi digitiamo la lettera J per unire, cioè per join, J sta per join, per unire queste due parti, quindi accetta. Ok, a questo punto se noi volessimo vedere cosa è successo nel frattempo tra l'osso che abbiamo appena creato e l'osso originale, possiamo fare così, togliamo lo show airframe, attiviamo l'osso originale che è qui sotto, a questo appena creato ci applichiamo un materiale trasparente, anzi possiamo, beh qui già si vede molto bene, però potremmo anche fare un'altra cosa, possiamo fare questo, metterci in una vista top e con il comando plane cut, quindi comando plane cut, fare un taglio, ho fatto un comando troppo veloce, ok, comando plane cut, tracciare una linea di taglio qui, ok, che ci permette di vedere cosa stiamo facendo, poi annulliamo il comando, quindi tracciamo una linea qui, in questo modo, possiamo fare, slice keep both, cioè manteniamo tutte e due le estremità del taglio e a questo punto se noi facciamo separate shells, andiamo a togliere una delle estremità e possiamo vedere cosa stiamo rigenerando rispetto all'osso originale, adesso tutti questi passaggi li annulliamo con ctrl z, perché noi non vogliamo assolutamente generare tagli su questo modello, ok, perfetto, e andiamo avanti. Ovviamente come tutti i device che vengono a contatto con superfici osse o superfici mucose, bisogna dare un piccolo offset, una piccola distanza tra il device e il tessuto biologico, di solito in Blue Sky Plan questa distanza è di 0,2-0,3 mm tra la guida chirurgica e i tessuti, in questo caso possiamo fare la stessa cosa, cioè possiamo andare a selezionare tutte e tre, anzi tutta la membrana rigenerata e clicchiamo su Edit Offset e gli diamo un offset verso l'alto, quindi in questa direzione, di 0,2 mm, ok, quindi questo offset è qui. Attenzione che l'offset non deve essere solido, quindi dove c'è scritto qui Connected dobbiamo togliere la voce Connected, l'offset deve essere come un piccolo velo che si va a spostare di 0,2 mm dalla membrana originale, quindi accettiamo. A questo punto se ci fate caso abbiamo la stessa membrana inferiore però spostata di 0,2 mm sull'osso. Ovviamente adesso questa membrana deve avere uno spessore, diciamo che lo spessore delle dime chirurgiche è 3 mm ed è eccessivamente alto per questo tipo di applicazione, quindi noi possiamo dire a questa membrana di alzarsi, quindi un offset di 1 mm, ad esempio 1,5 mm, diciamo 1,2 mm, mettiamo 1,2 mm per esempio, ok, e anche in questo caso, e qui in questo caso possiamo scegliere due alternative. Allora questo sarà lo spessore diciamo della membrana, qui possiamo scegliere o di cliccare su Connected, quindi viene fuori una membrana perfettamente solida e in questo caso può essere una soluzione, però vedete che ci sono degli spike, ci sono delle zone un po' di artefatti che comunque possono essere tranquillamente eliminate, oppure possiamo decidere di fare un'altra cosa, cioè eliminare il Connected, quindi accettare questa distanza e agire per limare un pochino questa membrana qui. Quindi la membrana superiore, quindi questa sopra, con il comando Robust Smooth, con il pennello un pochino più alto, la posso andare un pochino a limare, soprattutto i bordi in questo caso, facendo attenzione però a non toccare la membrana sotto, quindi questo puntino rosso indica il punto in cui sto agendo, ma se io agisco troppo, vado a toccare anche troppo la membrana sotto, quindi devo fare molta attenzione a questo fatto, devo fare dei piccoli aggiustamenti e non degli aggiustamenti troppo spinti. Ok, adesso queste due membrane chiaramente sono appartenenti tutti e due, vedete, allo stesso modello di sottosquadro, quindi quello che vado a fare è cliccare sulla membrana inferiore due volte, poi premuto il tasto Shift e cliccare sulla membrana superiore due volte e faccio Y, quindi stacca. Abbiamo staccato le membrane del modello osseo. A questo punto riattivo la vista Show While Frame e vado a fare quello che ho fatto prima, fondamentalmente. Una cosa, una cosa che vi aggiungo, queste membrane, per evitare che il comando di scouting vada a interessare la membrana sotto, possiamo anche decidere di separarle queste due membrane viola, quindi Edit, Separate Shells, le ho separate. A questo punto se io seleziono quella sopra, posso andare a, diciamo, regolarizzare i bordi senza la paura di toccare anche quella sotto, che è la cosa migliore da fare. Ok? In questo caso, vedete, posso regolarizzare i bordi sopra, tanto a me interessa solo rimanere, diciamo, ben ancorato all'osso con la membrana sotto e quindi non ho interesse, diciamo, a fare altro. Quindi a questo punto faccio così. Le riseleziono tutte e due con il comando Shift e faccio Combina. Adesso ingrandiamo il modello, tasto Select e andiamo a fare la stessa selezione di prima. Selezioniamo il primo triangolo che ci viene, che vediamo, adiacente al bordino inferiore, sia sull'una che sull'altra. Ok? Facciamo così, andiamo su Modify, Expand Ring, ok? Così da espandere la selezione almeno una volta verso l'interno. Poi digiliamo la lettera B e smussiamo questi bordi. A questo punto faccio Join, oppure direttamente lettera J. Ok. Clicco su OK e vedete, la membrana è praticamente unita. Si sono praticamente unite le due parti. Posso cliccare su Deform Smooth per smussare questa unione e faccio Smooth Scale, lo aumento un pochino in modo da smussare il più possibile questa unione. Quindi accetto. Ok, togliamo la vista wireframe e quello che ottengo è praticamente una sorta di sella di cavallo, fondamentale per il cavallo, che è la nostra membrana. Una cosa interessante da poter fare è esportare, ad esempio, adesso la membrana non è finita, dobbiamo fare fori per il fissaggio all'osso e anche i buchi della membrana per impacchettare l'osso artificiale. Però intanto possiamo fare una cosa carina, cioè esportare questa membrana, quindi cliccare su Export e esportarla nel nostro computer. Membrana rigenerata WIP, cioè Work in Progress. Clicco su Salva e la vado a importare qui in MeshMixer. Quindi file, importa modello STL, qui abbiamo la nostra membrana, file esportati, eccola qua, rigenerata WIP, quindi ok. Chiudo qui la finestra, altrimenti non riesce ad allinearla. Adesso se io vado su Superfici e attivo qui, ok, vado su Superfici e vado a vedere praticamente qui sulle sezioni trasversali, posso vedere praticamente il bordo della membrana rispetto al bordo dell'osso che, attenzione, non è quello che vedete sulla TAC perché vi ricordo che questo modello l'ho modificato, il bordo dell'osso è questo celeste che vedete qui. Quindi si può vedere anche qui molto bene, diciamo, tutta la sezione di osso rigenerato. Stessa sezione si può vedere molto bene anche nella vista cosiddetta implantocentrica che ci fa proprio ruotare intorno, vedete come è preciso il... ok. Ok, allora la membrana deve essere chiaramente, come dire, ancorata all'osso, quindi è opportuno inserire dei pin. I pin sono praticamente appunto delle viti di fissaggio all'osso che si possono inserire in questo caso sia nella parte vestibolare che nella parte linguale della membrana. Chiaramente ognuno di voi avrà la sua vite, le sue misure e quando avrete la vite di fissaggio della membrana potete segnarvi le misure. In modo da andare quindi poi in Blue Sky Plan con la membrana importata, cliccare su aggiungi impianto e andare a cliccare su perno e quindi personalizza perno. Il diametro in questo caso lo lasciamo 2 mm, la lunghezza la mettiamo, non lo so, 9 mm e inseriamo il perno. Scusate la lunghezza, c'erano due lunghezze, quindi andiamo su sostituisci, 9 mm, 7 mm. Sto mettendo delle misure arbitrarie, quindi andiamo ad inserire questo pin in una posizione chiaramente clinicamente corretta che non è quella che sto inserendo io, ovviamente, sto impattando l'impianto e quindi troviamo la posizione di inserimento di questo pin, quella che più è corretta. Quindi ad esempio così. Ripeto, io non so come inserirle dal punto di vista clinico, a me interessa soltanto farvi vedere la metodica. Quindi poi posso duplicarla e posizionarne un'altra, ad esempio a fianco, quindi qui. Quindi questa la posso posizionare qui, facciamo un attimo in 3D, poi torniamo sulle immagini radiologiche. Questa qui la tiro fuori. Vediamo dove sta. Ok. E poi ne possiamo mettere, non lo so, francamente, uno qui. Qui, dietro. Quindi semplicemente vado a duplicare quella che ho appena inserito. Duplica. Me lo sposto qui. Lo manipolo in modo che posso portarlo nella posizione desiderata. Ci clicco due volte sopra, in modo che mi compare poi l'impianto anche qui. Questo deve essere, secondo me, abbastanza verticalizzato, in questo modo. Chiaramente una volta instabilita la posizione di questi pin, potete anche, qui sta facendo un salvataggio automatico che il software fa ogni 15 minuti, mi sembra. Comunque qui potete anche creare una dima chirurgica, per volendo, eh. Per poter posizionare con precisione questi, per fare i fori, diciamo, per queste viti. Per creare la dima chirurgica non c'è nessuna, nessun problema. Semplicemente si può fare in questo modo. Allora qui si sceglie custom kit, ok? Qui poi, ovviamente questi vengono trattati come se fossero dei piccoli impianti. Il diametro di questi impianti era, la sostituisci, vediamo, 2 mm. Posso ad esempio mettere qui una guida a diametro foro di 2.5 mm. Anche qui sto inventando le misure. Sto praticamente facendo questo, sto attivando le boccoline che sono previste per gli impianti io le sto attivando praticamente per questi pin. Ovviamente, per queste viti. Chiaramente queste viti non hanno questo tipo di esigenza, ma se uno volesse proprio fare veramente una chirurgia completamente guidata, voglio solo far vedere che si può fare la guida chirurgica anche per il posizionamento di questi pin. Veramente molto, molto semplice. In questo modo. Adesso non so benissimo, però, che tipo di strumentario voi utilizzate per fare queste osteotomie, insomma, per mettere, o meglio, per abitare queste viti. Però ecco, sappiate che con questi parametri qui si può giocare con il diametro degli oggetti che state utilizzando e con la distanza di questo punto di stop, di questa boccola di stop, dal piano dell'osso. Quindi ve lo faccio vedere così sommariamente, insomma. Quindi una volta fatto, attivate queste tre boccole marroni e stabilite le misure in base al vostro strumentario. Potete andare in pannello guida, qui mettete il modello di sottosquadro, che è questo, ok? E eliminiamo un attimo la membrana, quindi chiudiamo un attimo la membrana, pannello guida, e qui andiamo a disegnare la curva della guida. In questo modo. È un plus, eh? Probabilmente non necessario, però io ve lo faccio vedere, poi, insomma, voi deciderete. Ok. Non mi soffermo su questi passaggi, né su tutti gli altri importantissime nozioni da capire, da conoscere sulla realizzazione della guida, su tutte le preferenze e le impostazioni da dare per fare le guide chirurgiche, perché dopo è scontato che si sappiano queste cose, e altrimenti si fa riferimento al corso base di Blue Sky Plan, che organizziamo. Crea guida chirurgica. Ok, il modello della guida ottenuta è questo, può essere fatto in 3.000 modi diversi, giusto ora, giusto per farvi vedere, diciamo, la modalità realizzativa della DIMA per fare, appunto, per avvitare le diti della membrana. Ok, chiudiamo questo e torniamo quindi su Mesh Mixer, ma prima di tornare su Mesh Mixer esportiamo i nostri pin, i nostri tre pin, quindi andiamo su File, Esporta dati, e qui andiamo ad esportare questa volta solo ed esclusivamente i pin, quindi dove vedete queste spunte le togliamo, perché non ci interessano, Esporta guide tube, questo li togliamo, i nervi mandibolari li togliamo, ok, i denti virtuali li togliamo e esportiamo questa volta soltanto i pin, che sono questi ultimi due, tre e quattro, quindi ok, Esporta, costo sempre zero, File esportati, ok. Ok, torniamo in Mesh Mixer e importiamo a questo punto i pin appena esportati, che sono praticamente questi. Adesso riattiviamo la nostra, e ci ritroviamo anche qui, uno, due, tre, riattiviamo la nostra membrana, applichiamogli un materiale, diciamo così solido, e attiviamo un attimo il wireframe, ok, questo per farvi vedere questo. Allora adesso noi dobbiamo andare a bucare, diciamo, la membrana con questi piccoli cilindri, però se ci fate caso, la tessitura, diciamo, della Mesh di questi piccoli cilindri è del tutto verticale, quindi ci sono piccole linee verticali, mentre qui è una tessitura rettangolare. Se noi proviamo a sottrarre la membrana con questi cilindri, succede che l'operazione fallisce, perché su questi bordi il sistema non riesce a capire cosa fare, perché qui c'è una tessitura triangolare, qui c'è una tessitura invece più che altro lineare, e quindi è un po' un problema. Quello che bisogna fare è selezionare questi cilindri, Edit, Make Solid, e accettare. Quindi il primo lo cancelliamo, quindi facciamo la stessa cosa anche sugli altri, seleziono Make Solid, e il primo, all'originale lo cancello. Seleziono, Make Solid, e cancello il primo, accetta, e questo lo cancelliamo. Adesso possiamo fare la sottrazione, quindi selezioniamo la membrana, questa qui sarebbe la, la chiamiamo membrana, e selezioniamo la membrana, poi selezioniamo uno dei pin e facciamo differenza. Come vedete riesce la differenza. E facciamo la stessa cosa anche per gli altri, quindi membrana, altro pin, selezionati con il tasto Shift, e facciamo differenza booleana. Quindi anche qui membrana, altro pin, differenza booleana. Ok, quindi questi potrebbero essere i pin di fissaggio, poi si possono fare, insomma, in diversi punti della mesh, o meglio, della membrana. Ok, adesso duplichiamo la membrana, quindi facciamo una copia della membrana e lavoriamo sulla copia. A questo punto io faccio delle selezioni circolari sulla membrana, che poi diventeranno dei fori sulla membrana stessa, all'interno dei quali si può impacchettare, diciamo, il sostituto osseo. Quindi faccio dei fori più o meno grandi, in questo modo, facendo attenzione di non avvicinarmi però eccessivamente ai bordi per non infragilire sostanzialmente l'intera membrana. Per cancellare si usa il comando CTRL, quindi il tasto CTRL permette di cancellare. Facciamo attenzione a non avvicinarci troppo neanche ai pin, perché qui, se ci avviciniamo troppo, la stampa o la fresatura, anzi, della membrana potrebbe infragilirsi. Ok, una volta fatte tutte le selezioni che volete, potete cliccare su B per andare a smussare i bordi. Come vedete, in questo caso, la selezione non riesce perché, diciamo, questa selezione è un po' complessa. Quindi, vedete, la smussatura dei bordi, in questo caso, è fallita. Questa è una cosa che succede molto spesso, in questi casi. Perché? Perché la tessitura di questi triangoli è un po' troppo grossolana. Quindi, quando si fanno queste selezioni per avere dei bordi di selezione perfettamente smussati, bisogna creare una tessitura di questa mesh più regolare. Allora, clicchiamo sul Cunch, ok, selezioniamo tutta la membrana, quindi Ctrl A per selezionarla tutta, e facciamo Remesh, Edit Remesh. Ok, vedete, adesso la tessitura è molto più regolare, quindi accettiamo, ok, e rifacciamo la selezione. A questo punto la selezione, vedete, è anche molto molto più facile da fare perché, effettivamente, la tessitura ci aiuta in questo. Attenzione qui a non andare troppo vicini l'uno all'altro. Ok, procediamo con le selezioni. Si fanno un po' più piccole, le facciamo un pochino più piccole. Ok, una volta fatte tutte le selezioni, digito la lettera Y per staccarle, anzi scusate, prima della lettera Y ho B, la lettera B, che mi fa lo smusso dei bordi di queste selezioni, quindi digito la lettera Y e stacco queste selezioni. Ok, una volta staccate le selezioni, le seleziono appunto tutte con Ctrl A e faccio un offset. Le mando praticamente leggermente sopra, vedete, faccio un piccolo offset verticale verso l'alto, diciamo di circa un millimetro, più o meno. Attenzione qui, connected deve essere non attivo, quindi clicco su accetta, ok, e adesso, cliccando sempre su queste coppie di selezioni, faccio edit separate shells, in modo che io mi possa andare a rimuovere tutte le selezioni inferiori che in questo momento non mi servono più. Quindi le seleziono con la tastiera, cance, le cancello tutte. Posso selezionarne pure più di una, con il comando shift, e poi le cancello. Ok, adesso riseleziono queste con il comando shift, tutte quante, e faccio combina. Poi faccio Ctrl più A e faccio, aspettate un attimo, extrude. E le extrudo in senso negativo, quindi verso il basso, di circa, vediamo, e devono oltrepassare la membrana, quindi diciamo, va bene, meno 5 millimetri, qualcosa di questo tipo. Ok, io adesso ho esagerato un po', però non c'è problema. Togliamo un attimo l'osso, vedete che queste selezioni oltrepassano la membrana. Attenzione perché le selezioni si intersegano, questo non è un problema, però quando vedete che si intersegano, le dovete selezionare tutte e fare edit make solid, e clicco su accetta. Ok, le precedenti le tolgo. A questo punto clicco sulla membrana, clicco sulle selezioni e faccio differenza booleana. Questo mi consente di avere la mia membrana perfettamente folata. Ok, a questo punto ho ottenuto la mia membrana con le linee, diciamo con i fori di fissazione all'osso già stabiliti, e questo è il risultato se io sovrappongo la membrana all'osso originale ricostruito. Ok? Adesso ho fatto le cose un po' di corsa, qui probabilmente c'era bisogno di aumentare un pochino lo spessore della membrana, comunque le dimensioni, però questo è quello che si ottiene con questa procedura. Eccola qua. Se noi attiviamo il modello di sottosquadro, è la stessa cosa, ok, non vedo più i sottosquadri, ma insomma è la stessa cosa, e questa è la procedura. Adesso questa membrana può essere tranquillamente, diciamo così, esportata e fresata, ad esempio in zirconia, oppure stampata in pic, ci sono diversi sistemi per la produzione di queste membrane, che non sono chiaramente più riassorbibili, ma vanno rimosse. Diciamo la geometria di questa membrana, avendo eliminato anche i sottosquadri, permette sia di posizionarla agevolmente che di rimuoverla agevolmente. Ok, finito questo progetto, vi ricordo che chi volesse approfondire tutti questi temi di utilizzo delle tecnologie 3D, nodontogliatria, tramite l'uso di software gratuiti, può farlo attraverso, diciamo, innanzitutto la piattaforma app3d.it, che è una piattaforma nella quale io sono, diciamo, relatore, quindi creo alcuni contenuti, e poi anche attraverso i corsi che organizziamo sia da remoto che in presenza, in questo momento ci sono due corsi, il 25 giugno a Roma il corso di chirurgia guidata con Blue Sky Plan, un corso di un giorno, con una parte pratica, e poi il 16 luglio, sempre a Roma, un corso di ortodonzia digitale per la realizzazione di modelli per adenatori ortodontici, sempre con Blue Sky Plan. Un'altra cosa interessante è che qualche giorno fa abbiamo ottenuto un corso online sulla realizzazione di guide chirurgiche scomponibili per chirurgia full arc, molto interessante perché permette questo corso, questo seminario, questo webinar che abbiamo ottenuto, di poter realizzare, diciamo, guide chirurgiche scomponibili che permettono di digitalizzare completamente il processo protesico anche sul paziente. Quindi è molto interessante, se volete andatelo a vedere, vi lascio in questa pagina anche tutti i riferimenti di questi eventi formativi, qualora voi foste interessati potete contattarci tranquillamente e così poi eventualmente ci vedremo a uno dei nostri corsi. Vi ringrazio e a presto, ciao!